Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie dalla regione e dal territorio. C'è anche Latina tra le province interessate al mega sequestro di beni per un totale di 290 milioni che la Guardia di Finanza di Napoli e Bologna sta eseguendo in tutta Italia. Nel sequestro spiccano 639 tra immobili e terreni riconducibili a diversi clan camorristici, alcuni anche in provincia di Latina. Il sequestro scaturisce da diverse indagini condotte nei confronti di un imprenditore ritenuto contiguo alla criminalità organizzata campana e che avrebbe operato per un lungo arco temporale di quasi 30 anni, operando attività di riciclaggio. Su queste basi sono stati sottoposti a sequestro 12 società, 16 autoveicoli, 37 rapporti finanziari, 639 immobili e terreni ubicati in varie province italiane, tra cui Latina. Rimaniamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Roma, dove ieri nel centro commerciale di Roma-Est a Ponte di Nona una ragazza è precipitata dall'ultimo piano del parcheggio dello stesso centro commerciale dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando. Un volo di diversi metri da parte della stessa giovane che è rimasta gravemente ferita e trasportata ad urgenza in ospedale. Il fatto, come detto, è accaduto alla galleria commerciale Roma-Est a Ponte di Nona e nella giornata di ieri intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Roma e del personale medico e la ragazza è gravemente ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata. Secondo i primi riscontri, la giovane era in sella ad uno scooter quando, per causa ancora in via di accertamento, sarebbe finita contro le barriere poste a protezione dei parcheggi. Sarebbe stata sbalzata dalla sella del motorino e sarebbe caduta nel vuoto. Con il mezzo a due ruote è rimasto bloccato nel parcheggio all'ultimo piano. Ci spostiamo a Formia dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica nella zona della Movida. Un episodio di violenza che vede coinvolti ancora una volta i più giovani e che riaccende i riflettori sulla città del sud pontino e in particolare sulle aree che nel fine settimana vengono prese d'assalto dai ragazzi. L'aggressione si è consumata nei pressi di piazza Tommaso Testa ed essere stato ferito al braccio un ragazzo di 22 anni che ha fatto ricorso alle cure in ospedale presso cui si è recato intorno a luna di notte. È stato soccorso dai sanitari con una prognosi di 10 giorni. Stanno indagando poliziotti del commissariato di Formia e dalle prime notizie emerse l'aggressione è arrivata in seguito ad uno screzzo nato all'interno di un locale per futili motivi e che poi si è concretizzata all'esterno. A Viterbo dove un consiglio straordinario, come dice il nome stesso, è stato convocato da parte della Presidente del Consiglio Comunale stesso su richiesta delle opposizioni, cioè sono stati accorpati quattro richieste di consigli in una. Questo qui riguarda infatti l'alienazione del patrimonio comunale e alcune forze di maggioranza non si sono presentate mandando deserta la sedura tra le proteste. Per ripicca così l'opposizione ha annunciato di voler chiedere più di un consiglio straordinario per rallentare la maggioranza e costringerla a dover discutere il piano che la stessa Sindaca Frontini aveva deciso di riproporre per vari temi. Così sono stati raggruppati per domani, per il 6 dicembre, tutti questi punti e si dovrà discutere di rincari energetici, PNRR, appalto rifiuti e piano di allenazione. Come prevedibile i tempi destinati agli interventi dovranno essere contingentati al massimo e questo ha scaturito la protesta da parte delle opposizioni. Parliamo di musica, dove Riete è la cantante di Anzio, sarà protagonista tra i Big in gara a Sanremo 2023, a darne notizie al conduttore Amadeus durante il Tg1 di ieri e la giovanissima sarà in gara tra gli altri con Giorgia, gli Articolo 31, Imodà e Anna Oxa. Insieme a lei ci saranno anche altri cantanti romani come Elodie e Ultimo, il quale si era classificato secondo nell'edizione del 2019. Infine a Roma, dove anche quest'anno c'è stato il Festival del Panettone, che è considerato il vero e proprio prodotto di punta della grande pasticceria italiana. È stato celebrato nella giornata di ieri questo evento di domenica 4 dicembre presso lo spazio Eventi la Serra del Palazzo delle Esposizioni. È stata la quarta edizione del Festival ed è stato organizzato da Ristoragency con il patrocinio dell'assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma, dell'Arsia al Regione Lazio e il supporto dell'azienda Acrimontana. Sono 24 le pasticcerie che hanno preso parte all'evento in gara e nella competizione che ha decretato il miglior panettone di Roma in due differenti categorie principali, il panettone tradizionale e il panettone al cioccolato. Presenti numerosi turisti che hanno degustato le rispettive specialità. Era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del Tg locale. Vi ringraziamo per averci seguito e lasciamo la linea alla programmazione di Canale 81 Lazio.